Il Paese ha subito diverse modifiche, la più grave, naturalmente, o la più impegnativa è stata come dal 59 all'estate il terremoto. E là, naturalmente, hanno già diverse stasi e quindi tanti di loro non sono più restati dal Paese, si sono spostati e sono là fuori di l'Aug, a Villa Santina o a Tomieci e un Paese, come il nostro, che aveva circa da 600-800 anni, si è chiamata alla giornata di VUE, arrivata in circa 300, quindi la modifica è sostanzialmente diventata importante. Cosa è succeduta nel frattempo? Ecco che a livello tecnico si sono aggiornate le strade che erano di natura sabbiosa, si sono sfatti gli asfalti da Villa Santina Lauco, ma anche tutto il Paese nella parte centrale è stato modificato e asfaltato. I nostri vavi erano principalmente socialisti, che avevano portato dalla Germania e dei paesi viciniori, anche dalla Francia, le innovazioni di quei paesi dove il socialismo era l'aspirazione della gioventù. Quindi vivere collaborando unitamente agli altri per creare una società dove tutti potessero vivere serenamente, tranquillamente e godere il tempo necessario per passarla. Quello era il motivo per cui è nata sia l'una che l'altra delle due case del popolo, quello di Prato Carnico e quella di Lauco. Tutte e due avevano una base sociale. In timido del fascismo le avevano cubierte, le avevano fatte un intonaco a Toratola e le avevano fatte una scritta su questa piastra perché in timido del fascismo non esisteva la casa del popolo. E allora scritta, coloro che io preferisco sono quelli che lavorano duro, secco, solo, in obbedienza e possibilmente in silenzio, Mussolini, fino a sotto. Dopo naturalmente finì la guerra, hanno fatto l'armadura e anche la via che è intonaco lì e le torna a casa del popolo. e nelle famiglie una volta i padri insegnavano ai figli il come continuare a vivere. e allora quasi tutte le case di Lauco, fatta qualche eccezione naturalmente, avevano un padre che era un socialista. che loro lo lia ven da Romagnia perché prima di già in Francia, in mezzo, prima delle che avevano i figli, i figli di Lauco e lavoravano in Ungeria, in Romania e avevano i figli che lavoravano. Tutta la carne era costretta ad emigrare per cercare lavoro. Non è soltanto Lauco ma quasi tutti Tutti i nostri padri varcavano il confine e per 7-8 mesi rientravano soltanto durante il periodo invernale o perché si sospendevano i lavori ai cui erano detti la gran parte erano muratori. Era il tradizionale mestiere che si tramandava da padre in figlio oppure cavatori di pietra. Tu vedi la nostra casa del popolo è fatta in mosaico che si chiamava l'inglese allora. Ha iniziato la costruzione nel 1913, poi c'è stata la guerra, quindi una leggera sospensione. Quelli che non avevano fatto la guerra hanno continuato a lavorare e nel 1920, l'8 gennaio del 1920, ovviamente l'hanno inaugurata. Quando abbiamo finito la casa del popolo, l'aggettamenti, e hanno premiato i più assiduiti, che hanno poi contribuito, che lavoravano gratis da morse, cinciapà. e hanno premiato tre di loro. Uno era donato, che sarebbe il nono di chi ha il bar di ogni municipio. dirmi, sono uno. Quelli che avevano fatto, che era il carattore dopo passare nella casa del popolo. E hanno uno. E per omaggio lui avevano dato un cappile di velut. Di velut, tutto veluto, grosso si è. Il velut, un bellissimo. e il lobby, lo chiamavano il lobby, che era il più vecchio, aveva sempre trovato un cappile lui. Mio nonno portava la barretta, e allora dicevi, no, non mi appartiene, non ha portato la barretta. Mio nonno portava la barretta una volta ad anno. Quando facevano l'assemblea richiesta dal popolo, a mettere il cappile per faiore, che era detto lui, uno dei tre, meritevoli. Beh, io ho cominciato a accortare gli 15 anni, in tal modo, se fossi prima, insomma, no? Beh, ha visto di far me, ha attività o...? No, 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 dipendente. Sì, a tutti i paroli, per lì, no? Mi stile i bodi che ti, allora, lo sai, si, la manaria come attrezzatore, il chapin, no? Il laché, il seon, che si diceva, no? Lung, ingoia, lavorava, tirava, si schiava e ciava, i togs, e via avanti, no? Oppure, veniva usata anche il nome la manaria, no? Era in cavolta, in timo, era in manaria a doppio taglio, di gine, no? Che si poteva usare la sia per così, che per così, insomma, no? E reclamare della giuola, no? Quella lì aveva il sistema di abattiment, sì, di abattimenti, delle planti, delle nozze, così via, insomma, no? E dopo, veniva la straduzione, no? Di questi legami, no? Allora, venivamo usati un gruppo, che a volte, teleferiche, con un quadro di acciarca, che sono le teleferiche, no? Lui non la vittura, no? Sì, ma che aveva, niente, e volte, 10 km di lunghezza, no? Sì. Non una tratta diretta, ma con gli angoli, conforme che la monta permetteva, in una vallata all'altra, no? E le gamba arrivavano a quarte di strade, camionabili, oppure, che veniva trasportata attraverso i chiars, i chiavai, che doveva dire, era un sistema così. Dopo, i concentramenti, invece, i concentramenti in tal bosco, e venivamo, infatti, tramite, sempre, un sapino, no? Venivamo concentrati, diciamo, la vallata è così, venivamo concentrati a basso, con l'odore, e un gruppo di loz, che non si prestavano, non so di che formi che i ditti, no? Che dopo li partivano le teleferiche, insomma, no? Con l'odore concentrati, no? E un gruppo di chi slegnavamo, veniva trasportato anche tramite, che si diceva qualche volta, la liscia, no? Ci metteva un tronco dietro l'altro, tre tronco, uno, due, e uno più basso, no? e lì si chiamava chi slegnavamo, e man mano che l'aveva in davanti si costruiva, si costruiva la chiste liscia, no? Finché arrivava, come ti dite, a parte di chiara, di camion, di chiara. Especialmente che i lavori di io facevano l'inviere, quando era anche la neve, e quando erano tutti glaciati, allora ogni po' di pendenza, si chiamava in partenza, arrivava, non sai, cento, cinti metri sin davanti, conforme la morfologia dal suolo, dal terreno, insomma, no? Correva in chiamata, no? e dove, è là che invece era dolce, planeggiant, no? Si usava a bagnare con l'acqua, no? E anche quella lì era un grande aiuto come sistema di trasporto, no? Sono dei miei team. Prima ero nella stuva, veniva trasportata tramite fluviale, no? Beh, le stuva, alle, piccine, e formin un gran poccio, un gran lago, no? Capisciano, no? No sai, o alti c'è tanto pobim, no? Lo costruisimo con legnami stessi, che reclamava in casciccia, no? Mettevano i legnami incrozzati, tierras, trastias, robas, no? E quando era pleno, no? E quando era pleno, il tronco, no? E i vieri vedi, lo facevano partire. Con que aga che aveva lì, il camminava l'ultimo, il corso dell'aga, normal, no? Per esempio, andava un che partiva a Sauras, no? Niveva un verso un pezzo, andava un altro a Fornia Voltri, che veniva un paldeano, no? Per il legano. Dopo l'era un altro a Timau, e l'ha perduta a Paolà, no? Che erano le stuvas, no? L'ho attaccato e lavorato al bosco di Origianni, da ora è il mio pari, e mi attaccato anche questa passione. Se notate la passione, te lo fanno, perché l'ho lavorato tanto a Dio, e la passione del bosco è resa e poco. Come la via di Bezza, che roba lì, non è che ci resta in tante, fin da giornata. Così in la tappa lo butti su lì, perché non roma nulla, o sennò poco. L'aria sana, la natura, il contatto con la natura, è una passione che non riesco a spiegare, perché ci sono tante cose. Il mole è tutto un altro sistema di lavorare. Una volta facevano quattro cubi in dì, con un moto fa 20. La sostanza sono i macchinari che ci diamo in tanta faria, rispetto a una volta. è un casino buttarle giù. Adesso qua, dobbiamo levare il bottolo, e vedere se la pianta si sana. 2,40. Per esempio, la planta che vinti a vuoi, è una planta che è sclamata di imballo. Per fare sbrie, smorai, roba di imballo per bancai, che roba lì. Invece viene un'altra zona che si chiama da dove è, che la legniamo ha vinto discreto per fare legniamo di cubierti e roba di prima. Dopo viene la forcadana, però non è raggiungibile con nessun miec, che è lì, e la legniamo di prima. Un'azienda che vengono fuori, come l'Austria, le imprese, le imprese, le imprese, le imprese, le imprese, le imprese, perché la produzione giornaliera ha una media di 70-80 cubi. che no, quando un boscador di media fa 15-20 cubi. Il mio padre era attaccato che buttava un cuccio a mano e dopo, quando la planta era a base, avevano i gropi a manaria, a piol via, si chiama, che sarei a manaria qui. Dopo spiegavano, facevano il tiaffo a staias, e dopo giravano tutto a sapere, aspettavano quando venisse da ploro, facevano le lisce, e ora avevano tutto a sapere. Il mio padre è stato un bucchio che aveva un imprese, che aveva un imprese, che si impicchia l'auca, e poco alla volta si è attaccato all'ora, a imparare, a imparare il mestiere. a imparare il mestiere. E, un grande parte si è attaccato sempre lavorato con le batlle per i monti, però da tom, con che si vengono i monti, si va al bosco. Se vedi a fare una scelta tra il mestiere del bosco, il mestiere del monte, e ci, adesso, il mestiere del monte. Il bosco, lavoras, faria, e dopo, alla fin a fin, non è che tu vedi questi grandi guadagni, diciamo. Adesso montas una vita più regolar, poi, manco il fadìa, è una vita più tranquilla. E a fin di stagione, tu hai un buon guadagno, netto, diciamo. cinza, cinza, rompeci tanto la schiena. non è semplice, perché non è come la casa, andate a 10 anni, andate in tanti monti, non era la corrente, con tanti monti, non era la laga, non è semplice, non è semplice, perché tu stai fuori, tre, quattro mesi, cinza ore indi, se tu sei familiare, se sei amici, però, diciamo che si sta bene, ecco, in pace, tranquillo, cinza, cinza diventa mazza. io ho attaccato l'aimonte di frutto, avrei avuto sette anni, mio frate, mio mare, vengo all'azienda, si è attaccato l'aimonte, un po' perché si scogniva, e dopo di lì, vengono la passione, si è sempre continuato a farlo, fino a qualche anno fa. ora siamo un po' di più in centis, così il giovane partisce, hanno lato in tante spese, di accumulare, di debiti e che roba lì, e arriva a portarci fuori la giornata, e arriva a stare a lavorare in chiasa lì, poi ci speravo. Sono due incidenti tra fabbrici, in fabbrica, con chi fa un po' di edilizia, ma il 90% sono due in fabbrica. Un domani se n'è in davanti così, qui non si l'uio, perché come lì, tutto qui entra, tutto qui entra il lavoratore, se tu lavoras, dobbiamo pagare le tasse di gente, a fin dei conti. Poi, lavorare, se non pagare le tasse per lavorare, a nulla, a nulla, a nulla il caos, ne chiedi tacare. un giovane che lavora di partire, lavorare, sinceramente, come un lui otto. a Vinaia è una storia massacrante, purtroppo contare non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. è appunto che si arriva a voi. Qui era un paese, erano in 830 volte, dal 1955. Dopo, non, purtroppo, è venuto, 23 incendosi, dolorosi, perché questo paese, vedi il bacino, aveva disforato il paese, sentire, e aveva già cominciato a stare i arboli, a betti e faggi, in tal plan di portare, che aveva divini, infatti, il paese divinare, portato completamente la via. Però, l'India, non pensava di muoversi, perché, potrebbero dissi, un'ierba a passare, e non voleva sapere di là. Era cominciato a da fuoco, di notte, no, dal primo di gennaio, del 62, all'ultimo del 63. Allora, sono stati 23 incendios, e 238 persone, hanno sognato la via, ma ci sono restati senza casa. Allora, poi immaginate, là che avevano un po' di conforto, che una volta, all'Italia del Paese, era una fratellanza, non come com'è, che non toccare, niente a frattare, perché l'abondanza ha distrutto ormai. E allora, con Kiss Hooks, era diventata una roba spaventosa, che niente nel tempo di guerra, non era una paura di entrare, che qui facevano dei rastrellamenti repubblicani, del S.A.S., no, perché avevano i partigliani, qui no, no, sia qui da Lusuf, che qui, di Garibaldi, i Garibaldini. e allora, dovevano bruciare il Paese. E qui, fortuna, di una persona, che le vignute quattro di mattina, ha clamato, che erano partiti, con gli anticeni, per venire a bruciare il Paese. Poi ricordavano, che il comando fosse a Vinay, e invece all'era un borg, che si chiamava Salvins, fra Vinay e il borg di Rugge. All'era il comando. E lui invece di Menaio, perché all'era di Vinay, però, che abitava a Fusea. All'hanno costretto da con loro, per mostrare dove all'era il comando dei partigliati. Allora lui invece di Menaio, salve gli omenas, in Calborg, che si chiamava Domecias, che erano cinque famiglie, che abitavano, a buttare il palare di lui, non c'erano nulla. E allora, il Paese di Vinay era stato salvato. Gli dice papà, che quando accorre il pane, io gli avvertivo il giorno prima, perché lo porta tre volte alla settimana qua. il lunedì, il mercoledì e il sabato. Ok. E io avevo i quadri, che ero, che ero, un anno, mi aveva i due. che ero in Sierrasno, in Tombosco, perché c'era una fortuna di un predio, che era Don Zaccomare Francesco, venuto durante la guerra, e purtroppo, assieme tutti a fare partigiani, che avevano confessato che copavano, i partigiani, perché la gran parte che hanno copato, erano due per vendette personali. prima l'ho fatta, la proposta al Comune, di dare il bosco, perché noi eravamo in Sierras, con il bosco, attorno a attorno, di Abete, e loro lo concedevano, perché loro volevano dettare questo, comandare. in Capoteca, non era il sindico, era un po' di staff, aveva in manso il potere, aveva lui, però è sempre stata una rivalità, l'AUC con Vinay, non sono mai less d'accordo, perché l'AUC, a semplicità di fare il proprio interesse, non era mai interessato alle frazioni. Lui si è impegnato, con il Paese, perché la INTA, erano due uniti una volta, aspettati che rientri dall'estero, e con l'aiuto dei camion americani, inglesi, che erano queste due famose, no, a charvone, a benzina in Cavote, quando erano diversi centenari, qui. Tutti i legni, all'antiaparte, trasportati, e portati, a Vila, qual era la cegueria di Antoni, famosa, in Queitims. No ho vieno domandato, se voleva inviare. Il legno è inambulato, in comune. Allora, tutto è guadagnato. Da legno, fatta tutte le opere pubblica, sia qui, che buttere, che arruncia. tra i campanelli, sono fatti quattro arloi, che non erano, con motori, tutto, rimanerano tutte le campanze. E dopo, il terreno, con un geometra di Nemons, ha individuato la sparsa da ogni numero familiare, così ognuno ha il suo tocco. Il terreno, di ricordo, sia in Chiavas, che ha reclamato Chiavas, che per l'unco. Per l'unco, sarei la parte destra, la parte strada, alle Chiavas. Ognuno ha il sottore del terreno, che una volta, abbiamo fatto i campi, e seminiamo le patate, come uno è poi int, e nasce gli arbori, come uno. La int, è un po' da perduto, dalla Sud America, all'Australia, in Francia, in Friul, da perduto, perché, quindi, capì che, da 600 persone, circa, 40, 50, forse, anche più di 600, attualmente, mi pare che andò, in una trentina. Quindi, il paese, completamente, abbandonato, un po' di. Avvene, appunto, tutti questi giovani, che, fru, eri, non è restato quasi nessuno. Io, sai, come ho, di un estico etano, io ho capito, ma Vinai, e forse, è l'unico. Il resto, sono due, per moltissimi lavori. A Vinai, è venuto un periodo, un predi, Don Ruggero, che, al Ciriva, si può, si può, che un predi, aveva un ufficio di collocamenti, penso io, perché, al Ciriva, di creata, in questi lavori, tra cui, io accompagnavo, io accompagnavo in Svizzera, Basilea, via, con la scurriera, si accompagnava. Io sono qui, che avevo, diversi anni, che sono venuto, purtroppo, dall'Australia, per la mancanza del papà, e dal ricovero, dal frate, dall'ospedale, e, fino alla mamma sola, sono venuto, ritorno alla casa, che mi hanno spazzuto, perché, in Australia, mi lavoravo duro, in Toscana, di Zucker, tranquillo, però, si guadagnava, allora, un lavoro duro, si cominciava, il duro, dopo il mio segno, fino al duvidi sera, e, purtroppo, quei sarpins, scugnava via per il mio segno, scugnita la cane, via per lì, e durante il mio segno, allora, di, preparare, tale, da fuoco, bruciare, si bruciava, un giorno, di sarpins, e, dopo si, coppava solamente, che si era costruito di coppare, ma, era venuta un'abitudine, ormai, si dormiva, si dormiva, su quegli arboli, facendo, si resisteva, il tecapane, e, si beve lasciato, si tenava su, pisar pins, e, si dormiva, all'aperto, e, si era, come i aborigeni, dove andassi, noi eri, proprio, per gran calor, obbligati, proprio, accettarsi, in queste condizioni, che si era, e, si lavava in davanti, però, ogni tre di cane, si calava da 20-25 kg di peso, perché, perché, il lavoro, era, super pesante, e, poi, erano, ieri, 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 di 25-33, quattro i tre di sanzi, e, ho dichiarato, che ieri, che ieri, che ieri, 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 non paventano, ma, perché, era una malattia di sterline, poi, poi, lavorava, e, poi, si lavava, e, allora, si dava dentro, una vendetta sul lavoro. So, Ito, No, 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 no La campagna è stata abbandonata, io mi ricordo che avalte il paese dal versante nord-est, allora noi dicere un remis è un piano. Allora era un paesaggio fantastico, esiste anche molte fotografie d'epoca che rende proprio l'idea di ciò che era, e come ho già l'incavolta cominciato a conquistare territorio, il bosco, a venire abbandonare la campagna, non era più sempli manco, insomma, bestià e per cui ha cambiato proprio l'ambiente in quel senso lì. Io sono Gressani Angelo e sono nascuto a Vinay, anzi, in una piccola borgata, oltre a Vinay, parla a Butea, in una località Nomecchis, praticamente a quattro passi di fuori. Io ho passato l'infanzia a Vinay e ci sono di virtù, anche c'erano pericoli, e lì vengono a esplorare spesso la foresta, l'anta a esplorare un poesco che era anche pericoloso. Alla fora è un poesco impervido, in tal senso che ha due fulms, un che viene da Dolacis, diciamo così, dall'est del monte Arvenis, e un alvenso sul versante ovest, a sincrosi proprio a poesco metodo di Val di Vinay, per cui i troi erano ripiti, un poesco, un poesco enorme, i fulms si formavano dei poes, che per noi erano spesso insuperabili, e quindi ristiavano ente, dal passare da una sponda all'altra, ristiavano spesso e si è finiti in tal lago. Per cui il pericolo, l'era un, l'era quel, il secondo pericolo, l'era quel che si sente i versanti a plomb sul flummo, sia la sponda destra che sinistra, e vengono in giù dei clas, specie in primavera, perché che no, appena che potevano, li avevano in giù, e quindi magari intimo hanno l'era il terreno di sglazato, e avevano un gruppo di resti che venissero in giù di classe, da le montagne solestate. Io sono Franco Adami, sono nascut io a Vinay, noi proprietà Vinay, come il mio collega Angelo, ci sono stati oggi un caso là, no, a quei timps il nostro divertimento era là, appunto, per chi sta fuori, dopo scuola, che si veniva a scuola a squadra, e partivano, e l'avevano, e io vengono. A quei timps io mi pensi benissimo che la Sade, non era l'Enel che voleva, aveva fatto dei provins da Roccia, che doveva venire un lato, aveva una diga, insomma, e noi entravamo in tachistos gallerias, uno rompava la pila, una batteria, e si cattavano e entravamo in tachistos gallerias. e che sopra salì, abbandonati il progetto da parte di Sade e sono restati, e mi ricordo di frutto, proprio assieme a Franco, di essi calati lungo che stiali lì, che tra l'altro erano ormai quasi marci, erano deteriorati dagli agenti atmosferici, dicendo così, e nonostante che noi siamo calati in punti che all'era facile non arrivato al naso, perché le stiali erano gravamente deteriorati. Noi si divertivamo all'a, in tachist post, e noi arrivamo allora capì in quimmo attualmente perché si divertivamo, forse perché si sentivamo exploratori, bu, non lo sai. e noi siamo in quasi tutte queste borse che ha inspezionato, non soltanto che ci siamo a livello dell'agra, quindi subito solo a livello dell'agra che ci siamo raggiungibili, ma in tachistica sono sul versante e sono sul livello superiore. e appunto i accessi erano garantiti dei sentieri che erano a picco sul torrento e di questa schiallia che ci sono andati prima. E insieme le trenti pulvolti, droppando le pila, a un certo punto vengono calati anche, sono una richiesta verticale. dopo però il segno che l'umidità aveva renduto la roccia un grosso viscido e per fortuna non vengono, non vengono più esistenti. Noi erano venuti a sapere, su una documentazione di foto, che prima di arrivare all'agrazione da fuori si trovava una piramide, una piramide rocciosa di 30-35 metri di altezza e là si trovava in alcuni scumuli di macerie. Dopo il 2021 è stata fatta saltare questa torre. E qui l'ha buttato? L'ha buttato un minatore che era venuto a fitta lì di me, una corta lì. L'ha lavorato con la miniera di buttee, tra buttee e curvie, era lì la miniera, no? Si può, se è una persona sotto, se si arriva agli ordini è un po' difficile, la differenza tra una persona e l'altezza di chi sta torre. Ecco, l'intiachista era una roba che se tuttora sarese, sarebbe stata un'attrazione, pensi? La torre era posizionata in prossimità delle confluenze del flume, del picchione e del vinaglio. Inoltre abbiamo imparato la terra poale, in tal senso che abbiamo visto i detriti probabilmente dall'avvenuto del crollo, qualche crollo sono grossi massi, abbiamo notato inoltre. e da ci che mi hanno contato a mia nonna, mi ricordava benissimo anche di un árbol che era insomma, che si lo vio proprio in questa fotografia che parla dal sud, lì che mi contava che questo árbol pur che si è cresciuto, in questa roccia quasi viva, io d'ora da bassa, se ne aveva che non fosse un spello di terra, e pur e faceva le sueze che stavano qui ogni primavera. .. .. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.